hello sono sono le dieci e mezza dieci e mezza di mercoledì 28 febbraio domattina partiamo mancano poche ore ormai e sembra ci sembra di avere ancora 6 o 7 ore di lavoro davanti però iniziamo qua i bimbi sono nanna gli ultimi preparativi meno male sono stati fatti qualcosina ancora da fare domani c'è da depositare le targhe della macchina che abbiamo consegnato oggi ultima puntata in banca imposta un minuto in doccia e siamo stanchi come ci sentiamo per il viaggio adesso c'è la stanchezza che prima è da domani inizia una sorpresa l'avventura speriamo che i zaini con 4 stagioni sono pronti emozioni abbiamo salutato ancora qualche amico oggi ma difficile ora di giusto di lavare i denti continuare chi continua e chi va a letto magari per chi se lo domanda non abbiamo milioni per viaggiare partiamo abbastanza all'avventura abbastanza legere anche con le tasche per qualcuno magari potrà sembrare irresponsabile altri potranno come tanti ci hanno detto wow che invidia che vorrei farlo anch'io cosa diciamo basta farlo però proviamo vi facciamo vedere se effettivamente in realtà si può fare anche con le tasche più leggeri senza alberghi di 43 stelle senza alberghi proprio e vediamo ci sarà un'avventura ci saranno alti e bassi ci saranno sicuramente ostacoli ma ci saranno penso anche tante cose molto positive e ci lasciamo sorprendere per sapere bisogna anche provare vivremo alla giornata giorno dopo giorno un po abbiamo programmato ovviamente però ogni giorno sarà diverso e vedremo come andranno le cose beh giorniamo lasciate se volete qualche domanda se volete chiederci qualunque cosa speriamo che potremo essere un po di forse ispirazione sicuramente per quanto riguarda l'atto educativo che è quello che ci preme particolarmente e con cui vorremmo contribuire ma in generale se volete chiederci cose riguardo la nostra preparazione e questo penso che racconteremo un po post factum ma avremmo voluto farlo è da mesi che ci diciamo raccontiamo riprendiamoci diciamo come stiamo preparando cosa stiamo facendo in realtà abbiamo avuto tantissime cose che si sono accavallate l'una sull'altra lavorativamente parlando e un po di tutto insomma e quindi il tempo è stato poco però niente da un po di mesi che ci stiamo preparando abbiamo venduto tanto gran parte delle cose alcune cose le abbiamo lasciate un po un po la da amici da tre in particolare vedremo dai vi racconteremo adesso ora è di andare io ciao 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 ciao